...pluricampione internazionale Daniele Bucetto Petrucci, accompagnato da Sergio Calì per la BVT Production da Roma a Puegnella! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E la quinta ripresa, round five. E la quinta ripresa. 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 E la quinta... E la quinta ripresa. E la quinta... E la quinta ripresa. 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 Vince. Questo incontro ai punti. Pietro Giacchino. Giacchino.